VEGOGNA! VEGOGNA! E pensavo che questo era un mondo giusto, cosa dovevi dire mia madre? Libertate! 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 Mia madre, a mio figlio devo dire che è giusto questo, che il mondo è libero, mio figlio devo dire questo, mi sputa in faccia mio figlio! E' questo? E' questo quello che volete per quello che fate? E' questo? Ci vuole dignità per questo! Non ci vogliono coglioni, dignità ci vuole per questo! Non ci vuole l'uccello duro per questo! Costa caro questo! Generale, Costa caro questo! E io sono qui perché tutti devono avere questo! Tutti! 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 E non ci ha lotto! Tutti! 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 Mi telefonate il mio figlio quando mi avete ammazzato! Mi avete ammazzato! Ma voi lo potete fare ad altri per questo! Quanti vengono dal sud da voi? Quanti sono costretti a fare cosa qui? potrete essere al mare a farmi il bagno d'acqua allora abbiamo מ stare premises a a a Ja! 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 Ciao, ciao, ciao.